Queste sono macchine da lavoro E questo è un aereo all cargo Iniziamo a caricare E questo è un aereo all'interno L'aereo è grande Ci entreranno tutte le macchine Piediamo la rampa Accendiamo i motori Si vola! Chissà dove è diretto l'aereo Al castello? No! Alla casetta? No! L'aereo vola verso la sabbiera L'aereo non può atterrare Non c'è la pista d'atterraggio Veloci! Serve urgente aiuto! Le grandi macchine da lavoro Vengono subito in aiuto L'escavatrice spiana i dossi L'escavitino! No! Grazie a tutti. Il bulldozer livella la sabbia. Il rullo compressore appiattisce la superficie. La pista d'atterraggio è pronta. L'aereo si prepara ad atterrare. La pista d'atterraggio è pronta. 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 Questo è un seme. Il camioncino vuole piantarlo. Questa è una palla meccanica. ha una grande palla per scavare. la pista d'atterraggio è pronta. Palla meccanica, aiuta il camioncino, per favore. la pista d'atterraggio è pronta. 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 Questo è un camion per trasportare l'acqua. a una grande cisterna. Ciao camion per l'acqua. Aiuta il camion ad annaffiare il seme. Oh, la cisterna è vuota. Bisogna andare a prendere l'acqua. Questo è un camion dei pompieri. Serve a spegnere gli incendi. fatto. Ciao camion dei pompieri. da un po' d'acqua al camion, per favore. il camion per l'acqua ha portato l'acqua. grazie. Oh, guarda quante verdure sono cresciute da un seme solo. Mettiamole nel carico del camion. che bello che il camion ha ricevuto l'aiuto di tanti amici. Grazie. 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 Grazie.